Perché questa pubblicità è così efficace? Perché è stata creata da una mente intellettiva ben organizzata. Che significa? Che chi ha creato questa pubblicità è molto intelligente. E la sua intelligenza in che cosa consiste? Nello scegliere tra le innumerevoli possibilità la pubblicità più efficace. Ma la mente è solo intelligenza? No, perché il corpo mentale è composto oltre che dalla mente intellettiva, dalla mente istintiva che si è formata durante le vite nel regno animale e dalla mente supernormale. E qual è la mente supernormale? Quella che si forma mano a mano che l'uomo evolve e che gli fa intuire la coscienza. E dopo che cosa succede? Poi l'uomo inizia a vivere solo di coscienza, ma allora non è più uomo. Poi l'uomo inizia a vivere solo di coscienza. VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN